che sintomi porta non avere la lordosi dunque le curve della colonna vertebrale servono apposta per una maggiore ammortizzazione immaginatevi una molla quindi il peso viene ammortizzato da tutte le curve della colonna che cosa succede che se a seguito soprattutto di cattivi vizi posturali di atteggiamenti perpetrati per anni e anni queste curve vengono annullate o comunque molto ridotte come nel caso della cervicale per gente che sta fissa al telefono o fissa a lavorare in maniera curva con lo sguardo verso il basso se queste curve vengono annullate o ridotte il peso che dovranno sopportare le vertebre i dischi e tutte le strutture sarà molto maggiore è come mettere molto più peso da lì una riduzione degli spazi tra una vertebra e l'altra con problemi ai dischi da lì una iperpressione sulle faccette articolari quindi tra un osso proprio e l'altro e di conseguenza gli spazi da dove passano i poveri nervi verranno diminuiti e quindi si potranno anche avere tutti i sintomi neurologici quindi nel caso della cervicale problemi a spalla braccio sensibilità delle mani eccetera quindi le curve servono apposta per ammortizzare il peso che il corpo ha e l'atteggiamento posturale corretto è fondamentale da ragazzi soprattutto per poi andare in là con gli anni è fondamentale per evitare problemi che potrebbero arrivare in futuro a seguito appunto di queste posture sbagliate spero di essere stato utile